Anni salvatore d'energia in pasta Le 2 uai alle Maria in Paracusale Nel nostro 5 e 48 All'è Chiaro E' stella di Chiara Felicilendi Autore tansia Doladeini Con l'urgenza zona di precazione Tansia Felicilendi E' stella di Tannini Sì 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 Alla Chiara! Alicet! 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 Vai Chiara, vai Chiara! Oh! 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 Forza! Forza Ari! Dai, dai! Oh! 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 Vai Chiara! Vai Chiara! Uno, uno! Uno, uno e 97! Questa è lì! Paolo Lugano nella manifestazione! Uno, uno e 97!